Col di Retti Puglia chiede alla regione di dichiarare lo stato di emergenza perché il comparto agricolo sta vivendo un momento di grande difficoltà. La seccità e la violenta e breve ondata di maltempo che ha colpito la Puglia hanno avuto effetti sul settore agricolo che vive un momento di profonda difficoltà ed è necessario dichiarare lo stato d'emergenza. E' quanto ha chiesto Col di Retti Puglia in una lettera urgente inviata al presidente della regione Michele Emiliano. Se infatti la mancanza di acqua in aridito terreni esposti anche al rischio incendio l'arrivo di temporali e vento forti determina problemi come frane e smottamenti con coltivazioni e allevamenti travolti da una catastrofe climatica che si prefigura addirittura peggiore di quella del 2003 che ha decimato le produzioni agricole, evidenzia l'associazione mettendo in risalto che la Puglia è attanagliata anche dalle perdite pari all'89% dell'acqua piovana con conseguenze sull'approvvigionamento idrico. La siccità sta costringendo gli agricoltori all'irrigazione di soccorso con costi altissimi per il caro gasolio, spiega Col di Retti Puglia per prendere l'acqua dai pozzi o per rifornirsi con autobotti. L'associazione chiede nella lettera inviata a Emiliano di ripartire dalle opere incompiute come per esempio la diga del Pappadai in provincia di Taranto mai utilizzata e che sarebbe utile a convogliare le acque del Sinni. Serve subito una rete di piccoli invasi diffusi sul territorio senza uso di cemento e in equilibrio con i territori ribadisce Col di Retti che con l'associazione nazionale delle bonifiche ha elaborato un progetto immediatamente cantierabile per la realizzazione di una rete di bacini di accumulo capace di raccogliere il 50% dell'acqua piovana. Si tratta di 6.000 invasi aziendali e 4.000 consortili da realizzare entro il 2030 nei territori sia collinari sia di pianura.